Eccoci allora al secondo capitolo di questo corso per Facebook Ads Sì, probabilmente una domanda sorge spontanea La prima può essere, ma si guadagna veramente? Oppure se si guadagna, quanto si può guadagnare? Bene, allora qui non è mai facile rispondere Ti mostrerò alcuni esempi di quello che io ho guadagnato O meglio fatturato e poi spiegheremo qual è la differenza tra il fatturato e quello che effettivamente ci resta in tasca Mi è comunque utile, non per farlo sborrone, scusate il termine, come si suol dire Ma siccome avete appena acquistato il mio corso È giusto anche, secondo me, vedere dei numeri Anch'io ho studiato con altri personaggi Quando vedevo che c'era la serietà della persona e aveva anche dei numeri interessanti E onestamente ho detto, beh, se devo studiare, devo studiare da qualcuno che i numeri li fa Perché sarebbe inutile aver venduto a voi un corso dove in realtà non ho nessun risultato da mostrare Quindi non prendete paura Non è per farlo sborrone Ma per dimostrarvi che questo è un vero e proprio lavoro È un lavoro serio Partendo dal basso Tipo Finance Ads Che ve l'ho accennata prima Tra comunque le affiliazioni presenti nel web Che vi ricordo tratta tipo carte prepagate Conti correnti, assicurazioni, prestiti, eccetera Ecco, tenendo conto che io questo Anche se il corso è rivolto a Facebook Ads Io personalmente lo promuovo in alcuni miei blog Anche se comunque ci sono molti altri che sfruttano anche Facebook Ads Ma a me per ora va bene sfruttarlo tramite il mio blog E questo, Finance Ads Quello ho messo praticamente da quando ho iniziato io a collaborare con loro Quindi da luglio 2018 a febbraio E praticamente le commissioni confermate che sono queste Sono 9.700 euro A qualcuno può sembrare tanto, a qualcuno può sembrare poco Comunque considerando che io per esempio utilizzo varie affiliazioni Vari fonti per monetizzare E comunque è un buon risultato Ecco, 9.700 euro in meno di un anno Significa quasi uno stipendio base di un anno Ecco, se facciamo due calcoli Il bello viene per esempio Il mese di gennaio Quindi il mese scorso Con Affiliation Park Ecco 2.925 vendite Fatturato 65.722 euro In un mese Qua ho messo last month Che in inglese significa mese precedente E siccome io sto registrando questo video a febbraio Si parla di gennaio Questo è un numero che a me comincia a piacere molto Quindi che tu Secondo me in giro ci sono molti scettici Che non credono Io ho partita IVA Fatturo tutto Questo è un lavoro serio Punto e fine Questo non significa che te farai in un mese 65.000 euro Anzi ti auguro di farne 100.000 Ma ne potresti fare veramente pochi Perché? Perché all'inizio tutti noi siamo partiti con budget giornalieri bassi Abbiamo dovuto fare molti test Imparare le strategie Prima di arrivare a questi numeri Ti dico tranquillamente Che c'è chi ne fa anche molti di più A me personalmente questo risultato è ottimo Che si va comunque a sommare appunto A quello visto prima E per esempio su Wordfiglia Qua io vado un po' alti e bassi Perché poi comunque testo appunto diverse piattaforme Qui abbiamo un 32.000 circa Fa conto da novembre praticamente Poi qui ho fatto poco Insomma c'è perché appunto poi testo altre piattaforme E vado a periodi Però insomma Si si può guadagnare Se si è bravi Si può fare numeri veramente pazzeschi Che se raccontati a persone con mentalità poca aperta Scusate se lo dico Però o non vi credono O vi danno dei truffatori Qui non c'è nessuna truffa Nessun inganno Ma si tratta di vendere online prodotti e servizi Punto e fine E poi un altro esempio Anche qui va comunque a periodi Però se io metto Andiamo se ricordo bene Gennaio 2018 Questa è un'affiliazione Per esempio Con etoro Che è un broker per il trading online Che per esempio in un mese Crea report Qua ci vorrà Un attimo Ah forse nomello Ah no ok scusate Ho sbagliato la data Dovrebbe metterci un po' a caricare E vediamo anche qui Qualche Mio risultato Finché aspettiamo che si aggiorni Si vi ricordo che Si serve studiare Questo corso vi sarà utile Ma I test dovete farne tanti Ecco qui In un mese Qui era gennaio 2018 Che è stato il mese migliore Che ho fatto con etoro 22.000 dollari Ok Che Euro Dollaro 22.000 dollari 19.400 euro In un mese Attenzione Prima vi dicevo Che bisogna distinguere Il Fatturato Ok Da quello che effettivamente Ci resta In tasca Primo Bisogna togliere Le spese Della pubblicità Ok Poi Sul netto Che ci resta E Ovviamente Avendo partita IVA Pagarci le tasse Insomma Ecco I contributi E quant'altro Però Per essere onesto Il mese di gennaio Tra Affilation Park E World Figlia 9.000 euro Più 65 Insomma Fa quasi Per fare conto Tondo 75.000 A me Comunque Ne ho spesi Molti di pubblicità Non dico di no Però Me ne sono restati Netti 25.000 euro Su un mese Per qualcuno Può sembrare Tantissimo Per qualcuno Può sembrare Che si può fare di più A me Personalmente 25.000 euro Solo Vendendo Un prodotto In affiliazione Tramite queste due Piattaforme Lo ritengo Più Che ottimo E Quindi Insomma Spero di avervi risposto A questa domanda Prendetelo comunque Come un'attività Seria Dove bisogna Studiarne Bene Questo corso E iniziare A fare Dei test E non è Tutto oro Quel che lucica Nel senso Che sembra facile Vedendo magari Certi numeri Ma non lo è Ok Bene Ci vediamo Al prossimo Episodio Prendetelo 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 Prendetelo